Dolore misto a rabbia dopo la morte del 17enne Mario Landi, originario di Fisciano, vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera sul raccoldo Salerno-Avellino. Il giovanissimo era in auto con cinque suoi amici, poi la Renault Modus, per cause ancora in corso d'accertamento e finita contro il guardrail. I corpi sbalzati violentemente fuori, sono tutti ricoverati all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Due in rianimazione, un sedicenne e una ventiquattrenne, lottano tra la vita e la morte. Un dramma che ha gettato un velo di tristezza sui comuni della Valle dell'Irno. Il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, si è detto vicino alla famiglia del giovane Mario e della donna della vicina comunità di Pellezzano, morta dramma nel dramma, per lo spavento avvertito dopo aver assistito al drammatico schianto. Mario era tifosissimo della Salernitana, anche la società, sulla sua pagina ufficiale, ha rivolto un messaggio di cordoglio al giovane, stringendosi al dolore che ha colpito la famiglia Landi. Intanto, mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente, montano le polemiche. Rifondazione comunista lancia dure accuse ai politici locali e nazionali sul rischio di perdere ancora una volta i fondi per la messa in sicurezza dell'arteria, diventata sempre di più la strada della morte. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, intervenuto ieri sera sul luogo della tragedia, ha precisato di aver sollecitato agli uffici ANAS competenti di avviare con celerità i lavori per i pannelli fonossorbenti, che possono fungere anche da barriera, proprio lungo il tratto autostradale che attraversa la frazione Cologna, dove si è verificato il terribile incidente stradale.